ben ragazzi e bentornati sul mio canale allora facciamo un attimo questo sto cercando di portare a livello 40 più di 50 dino anzi 50 totali raga perché una missione di queste qua che chiedono ok 44 su 50 come va ragazzi tutto a posto io sono molto impegnato come vedete negli ultimi giorni ma comunque sto sempre giocando all'app e allora ragazzi c'è il nuovo torneo c'è il nuovo torneo questo qua che ti fa vincere l'ignosauro è un bell'erbivoro leggendario che non ho tra l'altro quindi sto cercando di farlo siamo al momento in top 10 cacciatore quasi all'inizio quasi tra i primi direi di andare a fare un bel combattimento così iniziamo perché voglio dire vivori forti non ne ho tantissimi quindi mi serve proprio che qualcuno mi dia una mano allora ci siamo un po cosa combina lui io qua poi sono anche avvantaggiato facciamo due riserve nel trattempo un po voi lo state facendo ragazzi il torneo io faccio tre attacchi intanto la riserva ok perché non è difficilissimo non è difficilissimo sto notando 34 così che perse subito subito mi attaccherò di 4 niente quindi faccio altri tre attacchi una riserva vai 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 ancora lui dai che mi attacca di 7 forza 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 ok gli rimane uno ragazzi e allora gli facciamo due tre attacchi tre attacchi e ce lo portiamo a casa dai via due riserve anche perfetto la missione lì ragazzi comunque pensandoci adesso veramente lunga perché ero a 40 sono a 44 ma sarà due tre giorni che sto cercando di fare questo dino al massimo tra l'altro sto cercando anche di tenere dei dollari da parte quindi non accelero tutti i processi di evoluzione sono un pochettino più lento rispetto al solito ok va bene va bene va bene quanto andiamo 4 32 perfetto chiaramente qua come sempre guardate guardate che roba ci passo sopra mille volte non ce n'è una in cui io riesco a beccarla è una roba incredibile dai diamo battaglia vediamo un come va facciamo così uno due e tre avvia incredibile ragazzi ve lo giuro incredibile perfetto ci ho preso delino anche ultra power rispetto a quelli che ho contro ma va bene niente ci facciamo una riserva direi qua spero che questa volta di vincerlo veramente attraverso la la ruota della sfortuna perché è una roba incredibile ragazzi cioè veramente io voglio riuscire a vincere un dino nella ruota della sfortuna è proprio una questione di principio perché non è possibile che io non riesca mai a prenderlo comunque dei combattimenti ne faccio tantissimi cioè quello il punto principale non riesco mai a vincerlo boh facciamo così qua attacchi perfetto poi vedete che alcuni combattimenti sono veramente veloci quindi non capisco lo script che c'è nella ruota ve lo giuro ok siamo in top 5 97 i primi quante cose hanno vediamo un po di nuovo lega predatore io lo fermo qua guardate guardate niente da fare ragazzi non ci voglio credere vengo sempre cose inutili di cui non me ne faccio niente di cui non me ne faccio niente ve lo giuro ve lo giuro assurdo ok vediamo un po chi mi mette contro sono curioso di sapere voi in che posizione siete ragazzi sicuramente ci sarà qualcuno di voi che mi dirà l'ho vinto nella ruota sicuro perché sono l'unico che non lo vince allora dai 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 facciamo due riserva che tanto questo qui ha un mastino 3.330 di vita posso fare un po quello che voglio facciamo quattro riserve ok va bene gli rimane due facciamo questi tre attacchi ce lo portiamo via riserve ok dai stegosauro ottimo attenzione ottimo dai rimane due 875 lo faccio fuori con l'indominus comunque dai ok forza ultimo dino stegosauro a livello 33 non mi fa niente ragazzi cioè diamo uno di sette attacchi va bene veramente abbiamo vinto ma non c'era da da aspettarsi diversamente perfetto ci siamo saliamo ancora un pochettino in classifica 89 esi e attenzione lega predatore di nuovo dite che ce la faccio raga mi sento fortunato facciamo da qua ma assolutamente no il nulla più totale il nulla più totale raga niente da fare veramente niente da fare veramente allora facciamo così 12 ci mettiamo anche il pilotrodonte dai e un po cosa mi mette contro ottimo 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 non capisco cos'è il suo secondo dino non riesco a vederlo bene adesso se non la metto in campo cerchiamo di capire si è un volatile ok vabbè che strategia usato non capisco 12 una riserva perfetto eccolo qua vediamo cos'è un bel leggendario scuro piter ok carino bello forte vedo 2 facciamo così facciamo così attenzione cattivissimo il suo eh 4 vediamo che combina ah vabbè certo ok mi ha quasi fatto fuori ma non del tutto quindi faccio di nuovo 4 attacchi perfetto ok di nuovo ruota della sfortuna ragazzi posizione ottantunesimo ok saliamo di 8 posizioni alla volta fermiamoci qua e vediamo che cosa si va a perdere ecco qua niente come sempre va bene ragazzi allora in questo ultimo spacchettamento vi lascio intanto le anteprime degli ultimi due video così ve li vedete chiaramente anche il logo del canale per iscrivervi ragazzi perché chi ancora non è iscritto lo deve fare immediatamente così non si perde neanche uno dei miei video quindi che dire ragazzi vi ringrazio tutti di cuore e ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi bella ragazzi